Paola, quando vuoi? Terza e l'ultima parte della nostra rassegna dove aver parlato ampiamente della sconfitta della Juventus. Arriva la vittoria importante anche se sofferta in serata della Roma vicecapolista che quindi riagguanta il Minan vincente nell'anticipo del sabato. Andiamo sul Corriere dello Sport, Roma-Pescara 3-2, un Dzeko Show, ma quanta sofferenza. La Juve però è adesso solo a 4 punti, la squadra di Spalletti avanti 2-0 dopo 10 minuti. Con la doppietta del Bosniaco si distrae e rischia nel finale, gol anche di Perotti su rigore e nel mezzo Memuschai e Caprari ad accorciarla. La corsa della Roma che si era fermata a Bergamo riparte da Genova dove vince appunto Genova contro la Juve e riagguanta il Minan. La Roma è specializzata però la Roma nel complicarsi la vita perché col Pescara dopo essi è andato in vantaggio per 2-0 dopo 10 minuti. Grazie ad una doppietta di Dzeko capocannoniere del campionato con 12 gol va sulla roulette russa confermando il solito rilassamento mentale che già le è costato parecchi punti in classifica. Spalletti può essere soddisfatto da alcuni numeri importanti come il miglior attacco della Serie A con 33 reti e la settima vittoria su 7 l'Olimpico. Ma la Roma è ancora quella squadra imperfetta che il tecnico non vorrebbe vedere. Poteva essere la serata di Gerson ma pure in campo per 70 minuti il giovane brasiliano continua a lasciare perplessi. C'è invece un Edin Dzeko scatenato, davvero un campionato pazzesco. Il trio dei trequartisti, ai suoi spalle Salah, Nengolane e Perotti lo elettrizzano. Una formazione tutta straniera alla Roma senza neanche un italiano. Il bosniaco sempre sugli scudi, si libera subito per la rete del vantaggio sui sviluppi di un calcio d'angolo. Poi al settimo, dopo il vantaggio al settimo, ancora una seconda rete su assist di Perotti per il bosniaco che davvero allunga anche al vertice della classifica capocannoniere. Il Pescara non riesce a risalire la china. La Roma però dormicchia fino a quando nel secondo tempo subisce il gol e riallunga, ancora una volta con il rigore conquistato, realizzato dall'implacabile Perotti. Davvero un bottino al 100%. Per lui quando va sul dischetto entra anche Totti ma non è finita perché arriva il gol di Caprari, un gol dell'ex subito dalla Roma che si addormenta nel finale. Un po' di sofferenza ma la vittoria alla fine arriva. Nel match i protagonisti sono senza dubbio questi due che vediamo in foto attraverso la fotogalley del Corriere dello Sport, ovvero Perotti e Edin Dzeko, marcatori. Sì ma soprattutto un Edin Dzeko spettacolare in questo avvio di campionato, una prolificità che ricorda i classici secondi anni di tutta la carriera del centravanti ex Manchester City che al suo secondo anno ha sempre anche vinto il campionato, i tifosi della Roma sognano ma naturalmente c'è da vedere anche il contesto dell'intera squadra perché è una Roma che ha avuto il piacere di godersi uno Dzeko davvero in gran forma ma il resto è un po' sonnolento. Dzeko però è il bomber d'Europa perché dietro solo a Messi e Cavani è a quota 17 gol stagionali, meglio di lui solo la pulce del Barcellona e il matador del Paese Saint-Germain. Una trasformazione totale come da dottor Gekhi al mister Hyde, scrive il Corriere dello Sport e Edin Dzeko davvero è sotto gli occhi di tutti dopo le critiche della scorsa stagione. Sta portando la Roma a competere per uno scudetto che manca da 15 anni, Dzeko fin qui è il miglior marcatore della Serie A, 12 gol in 14 partite, non tutte neanche giocate per intero, quattro doppiette contro Crotone, Napoli, Sassuola e Pescara e alle 12 reti in campionato vanno raggiunte le 5 in Europa League per un totale di 17 reti stagionali, una doppietta contro l'Austria-Vienna e una tripletta nell'ultimo turno contro il Victoria Pilsen, tre gol che hanno consegnato il passaggio del turno alla Roma. Come prima della classe vanno anche poi aggiunti i 6 assist, Dzeko che è uno degli ultimi rappresentanti della categoria dei cosiddetti arieti, uno di quegli attaccanti che fanno valere la struttura fisica ma non solo, Dzeko è anche capacità tecnica davvero di grande potenzialità, dribbling, capacità di calciare in un fazzoletto, fanno di lui un attaccante con delle doti fuori dal comune, davvero complicato anche inserirlo in una categoria in quanto tale perché in alcune giocate Dzeko addirittura ricorda anche un trequartista, diverso ad esempio dai Goin che pur nella scorsa stagione ne realizzò 36 in campionato e facendo una media Dzeko è davvero matematicamente a questi livelli avendo anche superato la storica quota di Batistuta nell'anno dello scudetto alla Roma, sopra di lui soltanto Cavani e Messi che hanno fatto meglio con davvero i 19 gol dell'alieno Messi col Barcellona e il Matador Cavani ex Napoli con 18 centri, davvero Edin Dzeko che mette personaggi come Ibra, Lewandowski e Cristiano Ronaldo dietro è qualcosa di importante per i tifosi della Roma che devono però chiedersi anche perché le tante amnesie difensive e dei cali di concentrazione, Spalletti in qualche modo fotografa questo momento nel post partita racchiudendo tutto in un concetto basta essere solo belli pensiamo a vincere, Dzeko gli fa da eco dicendo se giochiamo così però il derby non lo vinciamo, Spalletti chiarisce siamo in un momento di cambiamento non ci piace più essere solo belli ci piace essere vincenti, la squadra ha fatto una bella vittoria, i ragazzi sono stati bravi a fare giocate in velocità, poi non abbiamo sfruttato tanti palloni mentre gli avversari sì, dobbiamo lavorare su alcune nostre caratteristiche, ci capita di abbassare il livello di determinazione invece in questo campionato non esiste mai una partita facile e quindi se non hai sempre la stessa voglia davvero diventa complicato basti vedere cosa è successo alla Juventus col Genoa o a noi la settimana scorsa contro l'Atalanta Dzeko gli fa da eco appunto come abbiamo già detto, è stata una vittoria un po' faticosa più di quello che pensavamo abbiamo cominciato bene, forse ci siamo troppo rilassati dopo il 2 a 0 è contento della vittoria anche perché coincide con la sua quattrocentesima presenza con la maglia giallarossa Daniele De Rossi vincere quando non si gioca bene è fondamentale perché se si vuole arrivare in fondo e battere la Juventus dobbiamo fare anche questo tipo di considerazioni, insomma d'accordo con Dzeko che dice che così non vinceremo il derby ma c'è anche da dire che la Lazio giocherà diversamente da come ha giocato il Pescara oggi c'è stato un momento in cui non tenevamo la palla e spesso il possesso è il miglior modo di difenderci la classifica è cortissima, tanti rivendicano il secondo e il terzo posto dobbiamo stare molto attenti dice Daniele De Rossi le parole che vengono ricalcate anche sulla Gazzetta dello Sport una Roma che tra l'altro ha chiarito, ha capito da ormai tempo come problema sia in difesa con una violabilità evidente il problema che però potrebbe essere risolto con il ritorno dei tanti giocatori fermi a lungo ai box è arrivato e tornato anche Vermalen i giallorossi pur segnando tanto subiscono troppo sono 27 le reti subite in 21 gare il Belga rientra in gruppo dopo il lungo stop per la Pubalgia nel frattempo si avvicina il riscatto automatico di Emerson Palmieri perde tante gare giocate la Roma ha recuperato anche Mario Rui il terzino sinistro comprato questa estate per essere il titolare poi infortunatosi ad inizio ritiro ritrova finalmente la capacità di poter tornare in gruppo ha giocato con la primavera e si unirà alla prima squadra nei prossimi giorni ha recuperato anche Rudiger una difesa perlomeno al completo quindi per arrivare al ciclo di fuoco contro Lazio Milan e Juventus una difesa che andrà sistemata chiederà questo Spalletti e il suo collaboratore storico Daniele Baldini che è ricordato a tutti come il principale diciamo uomo dello staff che si dedica a questa tematica in casa Roma la Roma che però guarda anche al rientro di Manolas dal suo infortunio è lui il pilastro della difesa e guarda anche ai rinnovi contrattuali perché come abbiamo detto in avvio la segna stampa si parla di rinnovi per Totti e De Rossi ma anche al mercato per gli attaccanti perché torna calda la pista De Pai per sostituire Mohamed Salah che partirà per la Coppa d'Africa a gennaio noi con questa notizia abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione non mi resta che rimandarvi alle prossime edizioni della nostra rassegna sportiva grazie e arrivederci